In cammino sulle Orme dei Pellegrini da Fucecchio passando per Pontremoli, Lucca, Siene e Firenze per confrontarsi sull'ospitalità, la manutenzione e la promozione della Via Francigena in Toscana tracciata nel Medioevo dal Vescovo Sigerico tra Canterbuni in Inghilterra e Roma, Meta dei Pellegrini Cristiani. La Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica hanno organizzato la nostra Francigena, un ciclo di incontri che si svolgeranno nei quattro comuni capofila delle quattro aggregazioni create lo scorso luglio più un quinto e conclusivo incontro previsto a Firenze. Durante ciascun incontro saranno organizzati tre tavoli tematici dove si parlerà di ospitalità, manutenzione e promozione, attività che verranno affidate ai 39 comuni toscani toccati dalla Via Francigena che fanno parte delle quattro aggregazioni. Ci sembra giusto interpretare a pieno lo spirito della Francigena e quindi noi ci mettiamo in cammino e andiamo a toccare attraverso questi appuntamenti che vedranno i comuni capofila ospitare anche tavoli tematici, tavoli di approfondimento per poi alla fine tracciare il nuovo percorso, non tanto della Francigena, quello ce l'ha già detto Sigerico come deve essere, ma il nuovo percorso delle attività che l'amministrazione regionale, guardando anche al prodotto turistico omogeneo, intende portare avanti e intenderà portare avanti in futuro. Un modo per coinvolgere tutti i soggetti che operano sulla Via Francigena per lo sviluppo di un prodotto turistico omogeneo. Perché la Francigena e l'Unisana non è la Francigena che troviamo a Siena, lo stesso di Casina tra Lucca e la dorsale centrale della nostra regione. Quindi cercare di fare un'azione promozionale mirata per pacchetti di viaggio, per esperienze di viaggio di qualche giorno che valorezzino al meglio tutti i territori circostanti attorno ai vari tratti di questo itinerario che è sempre di più apprezzato dai turisti italiani, non solo. Primo appuntamento il 23 novembre a Fucecchio, poi il 4 dicembre a Pontremoli, il 12 gennaio a Siena, il 19 gennaio a Lucca ed infine il 23 febbraio a Firenze. Grazie a tutti.